Musica Operai all'opera anche nelle ore serali si avviano a conclusione i lavori di ripristino delle condotte del sottosuolo danneggiate sia idrica che fognaria tra Corso Miragli e Via Giovanni XXIII, intervento a cura di AICA. E intanto è stato formalizzato dal notario l'annunciato acquisto dei rami di azienda di Girgentiacqua e Edo Tecne da parte di AICA. L'azienda idrica Comune Grigentini può dunque gestire il servizio idrico integrato in piena autonomia. Aumenta ancora la pattuglia di aderenti alla DC, sempre più nuovo Eldorado della politica saccense. Ultimi approdi quelli di Miglioti e Rapisardi. Si apprende che come Bellanca anche Bentivegni e Venezia in consiglio comunale rimarranno civici. Saranno installati entro fine anno i due barchi elettronici che disciplineranno le zone a traffico limitato a Sciacca. L'assessore alla Polizia Municipale Valeria Gulotta rassicura gli immancabili dubbiosi e parla di città proiettata nel futuro. Nasce a Ribella la panchina solidale, istituirla il Comune che ha accolto la richiesta di un panettiere che ogni sera proprio sulla panchina depositerà il pane da altri prodotti da forno avanzati per indigenti e lavoratori stranieri. Giornata di alta formazione oggi alla Multisala Badia Grande dove si è svolto un seminario di composizione per musica da film organizzato dalla Schene Academy di Ignazio Catanzaro e Olga Galluzzo, iniziativa promossa per Santa Cecilia. Un caro saluto di benvenuto, bentrovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con l'informazione. Si avviano verso il completamento e i lavori incontrata a Perriera con il ripristino delle opere del sottosuolo che riguardano sia la rete idrica sia quella fognaria. Un cantiere che dopo Corso Miraglia ha dovuto interessare anche la via Giovanni XXIII. L'amministrazione annuncia che l'intervento è in fase di ultimazione. I dettagli in questo servizio. Si è lavorato anche la sera in questo periodo alla Perriera nel cantiere istituito in Corso Miraglia nella zona della Frana che per anni è stata delimitata da una transenne che ha avuto necessità di un vasto intervento che ha interessato anche alla stessa parte conclusiva della via Giovanni XXIII che in questi giorni è rimasta chiusa al transito veicolare. L'assessore ai servizi a rete Valeria Gulotta chiarisce che i lavori che hanno riguardato il ripristino di impianti del sottosuolo danneggiati sia idrici che fognari sono in fase di completamento. Il problema è stato più complicato del previsto oppure siamo ormai in fase di risoluzione? No, il problema era quello che avevamo preventivato una quindicina di giorni fa dopo aver fatto le opportune verifiche. Quindi si sta scavando per come avevamo deciso, si sta sostituendo un tratto di conduttura che aveva un diametro nettamente inferiore rispetto al sistema a valle della via Giovanni XXIII. Quindi stiamo continuando a lavorare con quello che c'eravamo predisposti a livello progettuale. I lavori comunque diciamo che sono quasi in fase di dirittura d'arrivo perché si lavora incessantemente. La ditta fino alla sera alle 8, alle 9 è in cantiere quindi contiamo di chiudere questo cantiere nel più breve tempo possibile anche alla luce del fatto che ho diverse emergenze che già ho sottoposto al gestore emergenze che magari rappresentano cronicità proprio per il nostro territorio e quindi concordando con AICA puntualmente le operazioni da effettuare stiamo seguendo una tabella di marcia che è abbastanza serrata. Formalizzato dal notaio l'acquisto dei rami d'azienda di Girgentiacque e Idortecn da oggi AICA gestisce in piena autonomia il servizio integrato in provincia. I dettagli in questo servizio. Un importante passo avanti per l'azienda consortile che conclude l'iter avviato tempo addietro facendo proprio il personale e i beni mobili. Così i responsabili di AICA annunciano la formale acquisizione dei rami di azienda dei Girgentiacque e Idortecn per 680 mila euro. Un atto di particolare importanza che consenta ad AICA di affrancarsi dalla gestione precedente evidenziato Alfonso Providenza, presidente dell'Assemblea dei Sindaci. Alla sottoscrizione di questo contratto finalmente garantisce un momento particolarmente importante per AICA, finalmente la cessione del ramo di azienda a titolo definitivo dopo vari incontri che hanno finalmente consentito di raggiungere un punto di equilibrio tra AICA e la curatela fallimentarella Girgentiacque. Ripeto, un momento di particolare importanza perché ciò ci consente di affrancarci dalla vecchia società e quindi oggi possiamo cominciare concretamente a parlare del vero avvio, del concreto avvio del percorso appunto che è portato in avanti da AICA, soggetto gestore del servizio idrico integrato. Non è stato semplice, ricorda oggi Domenico Gueli, presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica. Siamo alle battute finali rispetto ad una vicenda che ci ha visto come ente di governo d'ambito assieme al gestore ad AICA partecipare ad una lunghissima trattativa con la curatela, la cessione del ramo d'azienda di Girgentiacque e di Dortecchine. Sopraggiunge questa battuta allo Stato finale dopo lunghissime trattative che si sono tenute in queste settimane e in verità da lunghi mesi, anche con l'intervento di Sua Eccellenza il Prefetto che in ultimo è stata preziosissima nel aiutare il gestore e noi dell'ente di governo d'ambito a definire in via del tutto straordinaria un passaggio fondamentale e l'attestazione ad una richiesta che da parte della curatela in primissima battuta rispetto a quanto richiesto a seguito di una verifica tecnica operata da un consulente del Tribunale arrivava a Cire che certamente non potevano trovare noi pronti a rimettere la nostra disponibilità. La Cire richiesta dal consulente era di circa 2 milioni di euro e con una nostra valutazione in verità una valutazione dei tecnici di AICA che ha portato anche a una seria valutazione si è riuscita ad arrivare e ad attestare, concordando anche come una reciproca concessione nella trattativa, una quota di 680 mila euro che riteniamo una cifra congrua e coerente con quanto anche ritenuto dai nostri uffici utile e pertinente a che finalmente AICA si ritrovi a camminare sulle proprie gambe e a sostenere in modo autonomo ora un percorso che di qua in avanti ci vedrà, come dire, certamente in un'azione di rafforzamento e di stabilizzazione operare al meglio il servizio idrico. Anche oggi altri operatori politici saccensi hanno annunciato la propria adesione alla democrazia cristiana. Si tratta di Nando Rapisardi e di Giuseppe Miglioti. Dichiara soddisfazione per questi ulteriori approdi il capogruppo DC a Lars Carmelo Pace. Intanto però sembra ormai certo che in Consiglio Comunale tre dei quattro consiglieri che si sono già dichiarati appartenenti al partito di Cuffaro e Pace rimarranno civici. La nota politica di Massimo D'Antoni. Continua ad aumentare la pattuglia di esponenti politici non solo a Sciacca attorno alla democrazia cristiana che ormai da considerarsi come una specie di nuovo eldorado della politica siciliana in generale e di quella agrigentina in particolare. E' di tutta evidenza come l'avvenuta elezione di Carmelo Pace in quella lista, l'ex sindaco di Ribera aveva un nutrito gruppo di grandi elettori anche a Sciacca a partire dall'ex assessore Alberto Sabella, abbia generato nuove condizioni di militanza, di visibilità e di possibile prospettiva politica. Tanto più che trattandosi di una forza dichiaratamente centrista può pescare serenamente sia di qua che di là. Gli ultimi approdi rispettivamente di Nando Rapisardi e Giuseppe Miglioti, quest'ultimo recentemente aveva lasciato Fratelli d'Italia, vanno solo ad aggiungersi a quelli già registrati nelle settimane scorse dai consiglieri comunali Carmela Sant'Angelo a Pasquale a Bentivegna, da Nino Venezia a Filippo Bellanca. Ma nelle ultime ore si scopre che qualche notizia cheppur era stata interpretata come scontata non solo dagli osservatori ma anche dagli stessi protagonisti non è fondata. Da quanto si apprende infatti il gruppo consigliare insieme per Sciacca continuerà ad essere regolarmente rappresentato insieme al Consiglio Comunale? Si pensava che Bentivegna e Venezia insieme alla Sant'Angelo avrebbero costituito il gruppo della DC e invece non sarà così. Sarebbe stato proprio Alberto Sabella tra i principali ispiratori della lista a puntare i piedi nei confronti di un progetto politico che continuerà a vedere naturalmente l'aggruppamento a fianco di Carmelo Pace ma solo al di fuori di Sala Falcone e Borsellino. E d'altronde anche Filippo Bellanca nei giorni scorsi pur dichiarando la sua adesione alla democrazia cristiana nuova ha avvertito tutti che il gruppo consigliare Sciacca 2022 rappresentato da lui e da Paolo Mandracchia rimane in vita. Insomma al momento l'unica a dichiararsi in Consiglio Comunale un esponente del partito rifondato da Totò Cuffaro è stata Carmela Sant'Angelo. In effetti cercando di interpretare le scelte politiche la situazione contingente impedisce ragionevolmente quelle che potrebbero trasformarsi in pericolose a fughe in avanti. Le ragioni sono diverse. La prima la questione del ricorso al TAR di Messina con la speranza di colui che nel frattempo è diventato Presidente del Consiglio Comunale di potersi vedere accordato dalla giustizia amministrativa il suo avvertimento del risultato elettorale amministrativo. Se fosse questa la piega che dovesse prendere la questione rientrerebbero in gioco aspettative e riequilibri. Se per pure ipotesi per dire in Consiglio Comunale nascesse un gruppo consigliare dell'ADC questo sarebbe composto da ben tre assessori disegnati da Messina. Decisamente troppi per una sola forza politica ancorché in ascesa e piena di soggetti che in futuro potrebbero essere pronti come dire a saltare sul caro del vincitore. Non va sottaciuta però un'altra ipotesi chiaramente alternativa alla prima. Si parla della possibilità che da parte di questi soggetti politici, in primis proprio quelli di Insieme per Sciacca, possa esserci un orientamento possibilista a sostenere l'amministrazione termine. Cosa di cui l'attuale sindaco avrebbe bisogno come il pane perché gli permetterebbe di fronteggiare eventualmente superare la questione dell'attuale mancanza della maggioranza numerica in aula, che non è certamente un problema di poco conto. È chiaro che Fabio Termini potrebbe gradire di più nuovi sostegni da parte di liste civiche piuttosto che di un nuovo partito, anche se rimarrebbe intatta la questione del costo politico da sostenere di questa eventuale operazione. E a proposito delle ultime adesioni, quelle odierne, va detto che Giuseppe Migliotti, ex consigliere comunale, è stato nominato coordinatore del collegio elettorale, mentre Nando Rapisardi, ispiratore della lista insieme per Sciacca, è stato nominato responsabile regionale DC del Dipartimento del Terzo Settore. La DC, dice Carmelo Pace soddisfatto, cresce in tutto il territorio di Agrigento, sono tante le adesioni che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni e sono sicuro che aumenteranno. Le nomine di Rapisardi e Migliotti consentono di lavorare ancora più intensamente per dare risposte immediate ai cittadini e rilanciare il territorio, fornendo ciascuno al proprio contributo per la rinascita della Sicilia. Ospedale di Ribera, il comitato zona disagiata, prende atto delle recenti dichiarazioni rilasciate alla nostra emittente dal commissario dell'ASP rispetto ad una imminente riapertura del pronto soccorso, ma ritiene che l'obiettivo da perseguire sia quello del riconoscimento di ospedale di zona disagiata. Per troppi anni sostengono si è parlato del pronto soccorso del fratelli parlapiano come se fosse addirittura abusivo. Sentiamo. Le recenti dichiarazioni rilasciate alla nostra emittente dal commissario dell'ASP Mario Zappia hanno rassicurato, ma solo in parte, i componenti del comitato zona disagiata. Prendono atto della possibile imminente apertura del pronto soccorso liberese, ma esprimono perplessità su come questo oggi sia possibile senza il riconoscimento di ospedale di zona disagiata, che garantirebbe per sempre, aggiungono, l'attivazione di un pronto soccorso H24 con un organico medico dedicato all'emergenza urgenza. Insomma, fiducia unita a scetticismo, perché per troppi anni evidenziano abbiamo assistito ad un depauperamento del presidio liberese e per troppi anni ci siamo sentiti dire che il nostro pronto soccorso fosse addirittura abusivo. Nonostante gli ingenti investimenti effettuati, quelli che hanno consentito al fratelli parlapiano di diventare realmente un ospedale durante l'emergenza Covid, con la prospettiva di un rilancio legato alle malattie infettive, così come alla pneumologia. Il neocomitato costituitosi a Ribera ritiene che la strada da percorrere sia quella di ottenere il riconoscimento di ospedale di zona disagiata, che preveda così reparti e servizi ritenuti essenziali. Comitato che sta lavorando ad un documento condiviso dagli operatori sanitari, da consegnare alla deputazione regionale in occasione della manifestazione già indetta per il 19 dicembre prossimo, davanti al presidio ospedaliero Fratelli Parlapiano, così come alla conferenza dei sindaci dell'area interna delle Terresi Cane, finalizzata all'approvazione di un atto di indirizzo da parte di tutti i consigli comunali interessati. Si sta attendendo inoltre l'insediamento della Commissione Salute dell'ARS per chiedere un'audizione alla presenza del neoassessore Giovanna Volo. La nuova classe politica regionale, così come la direzione strategica dell'ASP, ribadisce oggi Giovanni Montalbano, coordinatore del Comitato, devono fare tesoro degli errori commessi in passato ed avere una visione dell'offerta sanitaria del territorio che passi dai nuovi fondi del PNRR per il potenziamento dei servizi territoriali, ospedali di comunità e case di comunità e dal necessario riconoscimento del presidio riberese come ospedale di zona disagiata, oltre al potenziamento del presidio ospedaliero Saccenze, dicono, attraverso l'attivazione della neurologia e della Stroke Unit. Sulla questione primaria che riguarda la carenza di personale sanitario, il Comitato riberese chiede che venga sfruttato l'accordo quadro del 2020 tra regione e università per adoperare gli specializzandi, indipendentemente dalla branca medica, nelle strutture ospedaliere dove vi è carenza. Saranno disponibili entro il 31 dicembre i dispositivi che disciplineranno in maniera elettronica le zone a traffico limitato acquistate dall'amministrazione Termine, con accessi che saranno disciplinati da un software che registrerà la targa del veicolo che violerà il barco senza avere diritto con conseguenza della multa. È un'altra iniziativa che ci proietta verso il futuro, dice Valeria Gulotta, con cui abbiamo parlato anche del ritorno del parchimetro elettronico per il parcheggio in piazza Mariano Rossi. Sentiamo. È un processo che già avevamo annunciato in campagna elettorale, che prevede la nostra idea di centro storico, ovviamente affrontando anche problemi legati alla viabilità e parcheggi. L'introduzione di questi due varchi è un primo step che sicuramente dà atto del fatto che l'amministrazione sia programmando l'idea di sciacca del futuro, ma soprattutto ci tengo a sottolinearlo, va anche dato merito a tutto il Consiglio Comunale che all'unanimità ha approvato la nostra idea progettuale. Così Valeria Gulotta, assessora alla Polizia Municipale, commenta la decisione dell'amministrazione termine di acquistare due varchi stradali che serviranno a disciplinare non appena saranno installate le zone a traffico limitato senza più la necessità di personale della Polizia Municipale che stazione all'altezza della delimitazione dell'area. Infatti la nostra scelta punta soprattutto a questo, alla luce del fatto che comunque è ben noto che l'organico del comune non versa in un'ottima situazione. Poi oltretutto le transenne comunque devono essere applicate e tolte, mentre il varco che è dotato di una segnaletica verticale e dei pannelli che indicano se il varco è attivo meno. Quindi è un sistema pure che diciamo anche a livello paesaggistico dà meno impatto. Non avremo la transenne che delimita il traffico limitato o il personale della Polizia Municipale o della Protezione Civile che spesso c'è di supporto, ma sarà tutto automatico. I due varchi acquistati presso una ditta di Firenze iscritta al mercato elettronico della pubblica amministrazione costeranno poco più di 30.000 euro. I varchi sono un sistema informatico integrato per il controllo degli accessi e rilevamento dei flussi veicolari nelle ZTL in grado di rilevare immediatamente le infrazioni con la telecamera che legge il numero della targa di chi transita con verifica automatica se il mezzo sia o meno autorizzato. In caso di non autorizzazione scatta la multa. I varchi saranno dotati di un software, un sistema informatizzato integrato nel quale verranno registrate le targhe di tutti i residenti e delle categorie che noi andremo a definire, quindi ad esempio i disabili o delle categorie particolari potranno tranquillamente avere accesso all'interno della ZTL o area pedonale senza essere penalizzati da questo provvedimento. Valeria Gulotta rassicura ai cittadini sul fatto che soprattutto inizialmente ci sarà una grossa campagna di informazione. Il provvedimento ovviamente mira a punire chi commette delle infrazioni. È compito nostro e siamo sempre a completa disposizione dei cittadini per spiegare come verrà applicato, le modalità e quindi da parte nostra c'è sempre la volontà di venire incontro alle esigenze, ai chiarimenti che i cittadini ci pongono. Mi permetto anche di rispondere a qualche commento che mirava soprattutto al fatto di che potevano essere utilizzati per la manutenzione strade o per coprire buche. Intanto queste somme sono state prese dai ristori, quindi dovevano avere finalità turistiche e quindi abbiamo scelto di partire dal centro storico. Inoltre anche il Consiglio Comunale ha approvato un'ingente somma sia per la manutenzione strade che per l'acquisto di materiale per la sistemazione buche, quindi non ci stiamo muovendo soltanto in una direzione e le scelte dell'amministrazione si ramificano su diverse problematiche, sulla soluzione di diverse problematiche legate anche alle strade e alla manutenzione. Il barco deve essere collocato entro il 31 dicembre perché questa era la destinazione di queste cifre e dovevano essere utilizzate entro il 31 dicembre. Poi così Valeria Gulotta sui parcheggi che a breve saranno regolamentati da parchimetro con ticket all'ingresso e pagamento all'uscita. Quando vediamo queste cose negli altri comuni e ne siamo ammirati, vorrei che fosse lo stesso anche per la nostra città, dice. Ostretutto ci sono delle modalità all'interno del parcheggio che prevedono che i primi 15 minuti siano gratuiti, che si paghi l'effettivo tempo di sosta, modalità sia con le monetine che con carta. Quindi noi stiamo cercando di dare un'impronta più moderna e più funzionale alla città. Ovviamente ci sono degli step che vanno anche assorbiti dai cittadini, ma è nostro dovere spiegarlo con le modalità più adeguate. Una testa di ovino divisa in due parti con incisa una croce e il nome di battesimo del destinatario dell'intimidazione. Era tutto contenuto in un cartone lasciato sull'autovettura di un giornalista grigentino a cui è stato recapitato il macabro avvertimento. A fare la scoperta domenica mattina è stato lo stesso giornalista che ha prima avvisato i carabinieri che si sono recati sul posto e subito dopo è andato alla stazione dei militari dell'arma per denunciare l'accaduto. I carabinieri dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti aver cercato di capire se il giornalista avesse o meno dei sospetti sull'autore di quel messaggio hanno avvisato la procura della Repubblica e avviato le indagini. L'area dove è stata messa a segno l'intimidazione non è risultata essere coperta da impianti di videosorveglianza né pubblici né tantomeno privati. Non è chiaro se l'attività investigativa si stia concentrando sull'attività giornalistica del professionista o se invece sulla sua vita personale. Qualcuno a quanto pare avrebbe usato degli scarti di macelleria per confezionare l'intimidazione. Furti e rapine messi a segno nella città di Agrigento. I carabinieri della stazione di Villa Seta hanno arrestato un ventenne di Agrigento con precedenti di polizia e notificato l'avviso di conclusione delle indagini a carico di altri due giovani che sarebbero stati complici dell'arrestato in più di una occasione. Uno dei destinatari in particolare si trova attualmente in regime di detenzione presso l'istituto penale Malaspina di Palermo. Secondo quanto accertato dagli inquirenti il ventenne Agrigentino assieme agli altri due complici sarebbe responsabile di svariati furti e rapine messi a segno prevalentemente ai danni di esercizi commerciali ma anche di donne e minori a partire dallo scorso mese di gennaio. Due fratelli arrestati e un'altra ventina di indagati ad Enna nell'ambito di una inchiesta della Guardia di Finanza scoperto un giro di usura con prestiti a imprenditori in crisi di liquidità con tassi di interesse fino al 200%. Le vittime non ce l'hanno fatta più e si sono rivolte alle forze dell'ordine. Sentiamo. Prestavano soldi a imprenditori locali in grave crisi di liquidità per l'emergenza Covid-19 arrivando a chiedere un tasso di interesse del 200% l'anno. È il presunto giro di usura scoperto dalla Guardia di Finanza di Enna che secondo la procura del capoluogo siciliano era gestito da due fratelli di Leonforte che sono stati posti agli arresti domiciliari. Il GIP ha emesso nel loro confronto in ordinanza cautelare è disposto il sequestro preventivo di beni e denaro per circa 400.000 euro. Nell'inchiesta full control basata su indagini delle fiamme gialle della tenenza di Nicosia sono complessivamente 20 le persone a vario titolo indagate per usura, estorsione, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Decisiva si è rivelata la collaborazione fornita dalle vittime. Dalle indagini ricostruisce la procura di Enna sarebbe emerso che due arrestati, una volta concesso il prestito ed obbligata la vittima al pagamento mensile degli interessi, sempre superiore al limite massimo fissato dalla legge, il cosiddetto tasso soglia, dinanzi alle prime difficoltà manifestate dagli imprenditori nei versamenti periodici, li avrebbero costretti a cedere, a titolo di garanzia, le proprie quote societarie, talvolta in modo occulto, altre volte attraverso la loro formale acquisizione accompagnata tuttavia da pagamenti fittizi. In altri casi, sin dall'inizio, la concessione del prestito sarebbe stata subordinata all'acquisizione delle quote societarie a titolo di garanzia, la conseguente pretesa per la restituzione del prestito e degli interessi di una parte dei ricavi aziendali. In seguito, se le attività o i ricavi dalle aziende non si rivelavano sufficienti a garantire il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale, veniva richiesto alle vittime quale garanzia aggiuntiva e rilascio dei cambiali firmate in bianco, con l'intento in tal modo di prolungare il più possibile, anche con violenze e minacce, l'attività usurale dagli arrestati. E torniamo a parlare della recente riorganizzazione della rete scolastica cittadina, quella predisposta dall'amministrazione comunale, sottoscritta da tutti i dirigenti scolastici della città ed approvata nei giorni scorsi dagli enti provinciali competenti. Abbiamo chiesto un commento al dirigente Pippo Graffeo, a capo di un istituto, il comprensivo Dante Alighieri, interessato da diversi cambiamenti nella nuova configurazione, se la proposta sarà approvata dalla regione siciliana. Sentiamo Noemi Tummiolo. È indubbiamente l'istituto comprensivo Dante Alighieri, una delle scuole maggiormente interessate dai cambiamenti venuti fuori dalla nuova rete scolastica cittadina, quella messa a punto dall'amministrazione comunale di Sciacca, sottoscritta da tutti i dirigenti scolastici della città, approvata nei giorni scorsi dagli organi provinciali competenti e trasmessa alla regione siciliana per l'approvazione definitiva. Il piano in questione, come è noto, è quello che ha sancito la nascita del terzo istituto comprensivo in città e precisamente del comprensivo Agostino Inveges, di cui faranno parte molti plessi attualmente annessi al comprensivo Dante Alighieri, compreso il plesso di scuola primaria San Francesco, che farà parte del nuovo istituto comprensivo ma resterà ugualmente nei locali del Dante Alighieri. I cambiamenti saranno questi, la scuola, l'istituto comprensivo Dante Alighieri cede alla scuola media Inveges, che diventerà istituto comprensivo, cede il plesso di scuola San Francesco, un plesso di scuola primaria, un plesso importante, cede un plesso dell'infanzia, in particolare quello delle magnolie che si trova nella zona perriera, per capirlo tutti vicino alla chiesa, dove ci sono i semafori, la chiesa nuova, cede anche la scuola dell'infanzia e la scuola primaria dell'Oreto e infine cede ancora il plesso Montessori di scuola dell'infanzia per essere più chiari quello che si trova di fronte a Piazza Italia. Fin qui dunque, i plessi che il Dante Alighieri cederà al nuovo istituto comprensivo Agostino Inveges, ma il Dante Alighieri in caso di approvazione della rete scolastica cittadina da parte della regione, a partire dal prossimo anno, comprenderà la sede centrale del secondo circolo didattico Sant'Agostino, nonché il plesso di scuola dell'infanzia di Contrada Isabella. Il plesso Agazzi invece sarà annesso alla direzione didattica Primo Circolo Giovanni XXIII. Viene accorpato, viene aggregata la sede centrale della direzione didattica Sant'Agostino che al di là dei numeri che pure sono tanti, è una scuola importante per la città di Sciacca, una scuola che io stesso ho frequentato, è una scuola che a Sciacca credo è da più di 70 anni, è una scuola che porta dietro un'esperienza davvero importante. Quindi dico, il Dante Alighieri non si arricchisce solo nei numeri, ma si arricchisce anche delle esperienze, del prezioso lavoro degli insegnanti, degli alunni, delle famiglie, del dirigente scolastico e della direzione didattica di Sant'Agostino. E poi ancora alla Dandalighieri viene accorpato il piccolo plesso di scuola dell'infanzia che si trova in Contrada Isabella. Quindi qual è la configurazione finale? La configurazione finale è questa. L'istituto verrà così riconfigurato. Scuola media Scaturro, sede centrale Sant'Agostino, ripeto, sede centrale perché la Gazzi comunque verrà ceduta al primo circolo didattico. Questo piccolo plesso che si trova nel Contrada Isabella. Poi la Dandalighieri e quella di via Modigliani, ad eccezione, ripeto, del San Francesco che è allocato lì ma che non farà più parte dell'istituto comprensivo Dante Alighieri. Rimarrà sempre con noi la scuola dell'infanzia perriera per capire quella che si trova di fronte alla caserma dei Carabinieri vicino alla chiesa vecchia della perriera. E questa è la nuova. E' veramente una scuola grande ma ancora più che grande nei numeri dico più ricca di esperienza grazie alla direzione didattica di Sant'Agostino. In totale dunque saranno quattro le direzioni scolastiche. Primo circolo Giovanni XXIII comprendente in base alla nuova configurazione i plessi di scuola dell'infanzia De Gasperi, Mazzini, San Vito, Mascagni e Agazzi e i plessi di primaria Giovanni XXIII, Fazzello e San Giovanni Bosco. Istituto comprensivo Mariano Rossi che comprende i plessi di scuola dell'infanzia di via Campanella e via De Nicola, la primaria Mariano Rossi e la secondaria di primo grado di via De Nicola. Il comprensivo Dante Alighieri con i plessi infanzia Isabella, Sant'Agostino e Perriera, primaria Sant'Agostino e Alighieri e secondaria di primo grado Ignazio Scaturro ed infine il nuovo comprensivo Inveges che comprenderà i plessi di scuola dell'infanzia Montessori, Magnolie e Loreto, i plessi di primaria San Francesco e Loreto e la scuola media Inveges. Quattro istituti con una media di 900 alunni ciascuno. Sono stati consegnati e sono già iniziati i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali, tra queste la provinciale 26 Stefano Quisquina, confine provincia di Palermo e la 75 Siculiana Montallegro. Si tratta di interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza, il rinnovo della segnaletica e la rimozione di frane e cedimenti vari che purtroppo interessano gran parte della rete viaria provinciale in seguito agli eventi atmosferici di una certa intensità. Inaugurata a Ribera la panchina solidale, una nuova iniziativa per aiutare chi è in difficoltà scaturita da Maurizio Termine, titolare di un panificio in via Roma che ogni sera alla chiusura della propria attività lascia pane ed altri prodotti da forno avanzati, mettendole a disposizione di chi ne ha bisogno. Noi ce ne occupiamo in questo servizio. Maurizio Termine è il titolare di un panificio a Ribera. Ogni sera alla chiusura della propria attività metteva a disposizione pane e altri prodotti da forno avanzati e ha pensato bene di chiedere all'amministrazione di collocare una panchina dove lasciare questi prodotti. Il fratello, fedele panificatore a Caltanissetta da oltre un anno, mette a disposizione di chi ha bisogno i prodotti non venduti nell'arco della giornata lasciandoli su una panchina. E così anche Maurizio ha chiesto al presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Costa e al sindaco Matteo Ruvolo la possibilità di collocare in via Roma davanti al suo panificio la panchina solidale che è stata benedetta da padre Antonio Nuara. È un'iniziativa che è stata unita da un'idea di Maurizio, il nostro amico Maurizio, che aveva bisogno di una panchina. E lo scopo era non soltanto quello che la panchina di giorno può servire a tanti anziani che magari vengono a ritirare il pane e possono avere un momento anche per sedersi, ma soprattutto lo scopo è quello di realizzare la cosiddetta panchina solidale e iniziativa che già era stata fatta dal fratello e che Maurizio ha voluto fare anche nella nostra vita. L'iniziativa è stata accolta all'amministrazione comunale, dal presidente del Consiglio, dai consiglieri, da tutta la giunta e questa sera dopo aver collocato qualche giorno fa la panchina per chi fronte il suo panificio abbiamo anche i cesti con le derrate, non soltanto il pane, ma pasta, uova, farina, latte e quant'altro potrà servire a molta gente che ne ha bisogno, non soltanto gli extracomunitari, gli immigrati, ma anche tanti altri nostri compaesani, gente indigente che in questo momento storico di grande crisi economica, di grandi difficoltà per sbarcare il lunario vuole essere un segnale di sensibilizzazione per stare vicino veramente a chi è indietro, a chi ne ha più bisogno. I destinatari sono famiglie indigenti e lavoratori in difficoltà, anche stranieri, un valido esempio di solidarietà come ha evidenziato il presidente del Consiglio Comunale, Vincenzo Costa. Maurizio ha avuto un'idea che io ho subito intuito essere fantastica perché la solidarietà in questo modo è a doppio senso, chi ha mette, chi non ha prende, come diceva San Giuseppe Moscati. Quindi grazie Maurizio della tua disponibilità e chiunque vuole mettere qualcosa lo può fare, chi ha bisogno può prendere tranquillamente. Ed è un esempio quello del panificatore Maurizio Termine che per donna Antonio Nuara può e deve essere seguito da altri commercianti. È un'iniziativa ma io credo che a Ribera ne potrebbero nascere tante quando sono tutti gli esercizi che producono per servire la gente. Ci sono i barri, ci sono le pizzerie, ci sono i ristoranti, ci sono i negozi di genere alimentari che potrebbero continuare e completare quest'opera per poter aiutare più gente che sia possibile. Sono di quei gesti che nobilitano l'uomo e nello stesso tempo manifestano che l'altro per noi credenti è il fratello che ha fame e noi gli diamo da mangiare. All'inaugurazione della panchina solidale Ribera rappresenta anche la responsabile della Caritas Sesa Fontana che ha citato altri validi esempi di altruismo, in particolare le donazioni che da tempo vengono effettuate da sei panificatori riberesi. Mettono a disposizione della Caritas il pane del giorno prima e soprattutto durante l'emergenza Covid evidenziato Sesa Fontana hanno dimostrato una grande generosità verso il prossimo. Giornata di alta formazione oggi a Sciacca dove si è svolto un seminario di composizione per musica da film organizzato dalla Schene Academy in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti e rivolto a studenti di conservatori, accademie e scuole di musica di tutta la Sicilia. Vediamo. Studenti di conservatori, accademie e scuola di musica di tutta la Sicilia ma anche tanti musicisti questa mattina a Sciacca per un momento di alta formazione. Alla multisala Badia Grande si è svolto un seminario di composizione per musica da film organizzato dalla Schene Academy di Sciacca, l'Accademia di musica, arti sceniche, arti figurativi applicate in lingue in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Intanto abbiamo scelto questo giorno perché il 22 novembre è Santa Cecilia, patrona dei musicisti e quindi abbiamo voluto fare questo omaggio alla musica e in particolar modo alla formazione musicale. Abbiamo deciso di portare l'alta formazione a Sciacca con questo seminario di composizione per musica da film che vedrà come relatori, docenti provenienti dal conservatorio di Palermo e dal conservatorio di Trieste e un regista che verrà dal Friuli Venezia Giulia. Per noi è un momento veramente importantissimo perché in questa giornata avremo studenti provenienti da tutti i conservatori di Sicilia e anche musicisti esterni. Relatori, i maestri Giuseppe Larosa e Virginio Zoccatelli, rispettivamente compositore e didatta dei conservatori di Palermo e Trieste con la partecipazione straordinaria del regista Thomas Turolo del Friuli Venezia Giulia. Oggi parleremo appunto della scrittura per musica da film, delle varie tecniche e poi il regista parlerà proprio dell'impostazione di un film e anche di documentari. Alla fine ci sarà la proiezione di un film che ha realizzato lui, nello specifico con le musiche del maestro Zoccatelli che è l'altro mio collega di composizione. Quindi è un momento importante per la crescita professionale dei nostri ragazzi, vengono da tutte le parti della Sicilia, quindi c'è una grande affluenza, partecipazione dei ragazzi ed è importante, è importante per creare dei momenti di formazione che possono essere anche nello specifico per sciacca un momento anche di visibilità, di promozione del territorio. Non è utile dire come la Sicilia da anni sia terra di musica, di musicisti e anche terra di cinema. Naturalmente l'interesse è che ci sono ancora tante storie e tante narrazioni da rappresentare anche attraverso questi due linguaggi che sono oggi prevalenti e quindi il nostro interesse è indagare attorno a questi linguaggi anche con un auditorio di professionisti che si affacciano a queste professioni. Non c'è film senza musica, no? C'è nel senso per tutti quelli che fanno audiovisivo spesso e volentieri la cosa più importante quando fai il prodotto finito è avere la musica e il suono che siano perfetti. Guardi sempre delle immagini magari anche disturbate con una buona musica ma viceversa non guardi delle immagini bellissime se la musica o il sonoro non è buonissimo. Poi insomma la musica è l'accompagnamento del film, l'emozione del film, senza è difficile immaginare una scena per cui per noi è fondamentale in qualunque cosa facciamo. L'iniziativa è stata patrocinata dallo Sciacca Film Fest e dalle Comune, assessorato alla cultura. Sappiamo l'importanza della colonna sonora all'interno del film. Noi l'abbiamo contestualizzato quest'anno in una sorta di anticipazione delle quattro giornate dello Sciacca Film Fest che si darà nella nostra struttura dall'1 al 4 di dicembre. Per cui riteniamo che questo ed altri momenti che potremmo organizzare visto che siamo in una fase in cui stiamo trovando nuovi contatti, quindi nuove possibilità, nuovi rapporti per andare a fare del festival una nuova cosa già a partire dai prossimi anni. È una giornata di confronto, di crescita, di educazione, di crescita proprio culturale perché la musica dà fantasia, creatività, ovviamente poi ci sono tanti, vengono tanti maestri di fuori ovviamente è anche un modo per far conoscere sempre la nostra città, quindi che ben vengano queste iniziative che possono arricchire non solo i ragazzi che partecipano ma tutti perché è una crescita che riguarda tutti questi eventi. Ieri all'Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Mariano Rossi di Sciacca è stato attivato il laboratorio esperenziale La Giornata del Fanciullo Pet Therapy a Scuola, un metodo innovativo per facilitare il processo di sviluppo cognitivo degli studenti. Vediamo. Nell'ottica di una strategia metodologica innovativa e sperimentale finalizzata a facilitare il processo di sviluppo cognitivo ed emotivo negli studenti, all'Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Mariano Rossi di Sciacca si è svolto ieri il primo dei due incontri del laboratorio di pet therapy rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria interna ed esterni all'Istituto. L'iniziativa si pone l'obiettivo di creare momenti di raccordo pedagogico ed emozionale tra gli alunni e i cavalli e all'intento di sviluppare la capacità di sapersi mettere in gioco superando le difficoltà che in particolari condizioni di stress e conflittualità si possono presentare. L'attività ha visto la partecipazione di numerosi alunni provenienti da diverse scuole del territorio in un reciproco scambio di incontro e confronto e nell'interesse comune a tutta la comunità educante e cioè stare bene a scuola. L'iniziativa è stata promossa dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Mariano Rossi Paola Triolo ed ha coinvolto diversi insegnanti della scuola ed il professore Roberto Fasulo, esperto interno ed istruttore del centro ippico Lacriniera di Sciacca. Il prossimo incontro è in programma il 16 dicembre. Ieri presso l'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Mazzara del Vallo è stato siglato il patto di gemellaggio tra l'Istituto Mazzarese e l'Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri di Sciacca. Questa collaborazione è fortemente voluta da due dirigenti scolastici dei rispettivi istituti e l'indirizzo musicale Antonina Marino e Pippo Graffeo arricchisce l'offerta formativa di entrambe le scuole. La finalità principale del gemellaggio è quella di favorire la collaborazione tra le due istituzioni scolastiche attraverso la progettazione e la realizzazione di concerti in condivisione tra le due orchestre, proponendo un contesto educativo complessivamente più efficace all'apprendimento della pratica musicale. Inoltre le reciproche visite favoriranno la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale delle città di Sciacca e Mazzara del Vallo. Adesso spazio alla rubrica Il Libro del Giorno. Nella Vienna di Finst des Siecles, abbandonato da Liu Salomé, giovane donna dal fascino incantevole con cui ha condiviso un esaltante menage a Troyes, Friedrich Nietzsche, schivo, solitario, sociale, in preda a una disperazione estrema che gli ha fatto tentare più volte il suicidio. Uno stato che si manifesta con una moltitudine impressionante di sintomi, emicrania, parziale cecità, nausea, insonnia, febbria, anoressia, gli è accanto Joseph Breuer, stimato medico ebreo, futuro padre fondatore della psicanalisi, che sottopone il filosofo alle sue cure basate sulla convinzione che la guarigione del corpo passi attraverso quella dell'anima. Reduce dal difficile rapporto con un'altra paziente, anche Breuer è in preda ad una depressione profonda dovuta alla forte attrazione che prova per la donna a dissapori matrimoniali, al senso di soffocante prigionia causata dai legami e dalle convinzioni della vita borghese. Tra Breuer e Nietzsche nel corso di numerose sedute successive si staura un dialogo serrato e coinvolgente nel corso del quale il primo cerca in vano di arrivare alle radici del male oscuro del filosofo e di indurro ad aprirgli il cuore. Alla fine il medico ha l'idea risolutiva. Vestiti i panni del paziente e confessando tormenti, pene e preoccupazioni a Nietzsche, riesce a infrangerne l'impenetrabile isolamento e a provocare in lui una liberatoria catarsi emotiva. Le lacrime di Nietzsche di Irwin Yalom. Edito Neri Pozza. Siamo allo sport alla pallavoro, doppia sconfitta per le due squadre maschile e femminile del Volley Club Sciacca, giovani in crescita, comunque partita dopo partita. In Serie C i ragazzi si sono resi soltanto al T-Break, alla corazzata Spadafora, mentre in Serie D le ragazze sono state superate dal Cinisi. Sentiamo. Proseguono i campionati del Volley Club Sciacca. Durante il fine settimana le due squadre del Sodalizio Sodeccense hanno fatto registrare due battute dell'arresto, ma si segnalano ampi margini di crescita e il miglioramento dei più giovani, partita dopo partita. In Serie C girone A i ragazzi saccensi sono stati superati in casa, si fa per dire, dall'intermedia Volley Spadafora. La partita, come è noto, si è disputata al Pala Unità di Castelvetrano, impianto che per quest'anno ospiterà le partite casalinghe della società saccense. I messinesi si sono posti, però, soltanto al T-Break. 2-3 il risultato finale, frutto di questi parziali. 25-22 e 29-27 per i padroni di casa, con il Volley Club Sciacca, che quindi era inizialmente avanti di 2-7. Poi la rimonta degli ospiti per 21-25, 26-28 e 8-15. Una sconfitta dolorosa con la squadra di Enzo Graffeo, che avrebbe potuto anche portarla a casa con un po' di fortuna e se avesse avuto maggiore esperienza nelle fasi cruciali del match. La formazione maschile locale rimane dunque con 4 punti in classifica in quinta posizione, ma vicina alle zone alte del girone A. In testa si conferma il trinisi con 9 punti e a punteggio pieno. In serie di girone A, la squadra femminile del Volley Club Sciacca è stata sconfitta per 3-7-0 in trasferta dal Kunos Cinesi, formazione che si è rivelata più preparata rispetto alle seccensi. La squadra locale comunque, come si evince dai parziali, ha lottato punto su punto. 25-16, 25-19 e 25-20, questi risultati in favore delle padroni di casa. Squadra femminile che resta ancora senza punti in classifica, così come il Guarnotta Palermo e il Parnornus Volley. In questo caso, in testa al girone A, troviamo il Nugica Monreale e il Sigermarsala, entrambe a punteggio pieno e con 7 punti il Kunos Cinesi. Tutte le tre squadre di testa sono state già affrontate dal Volley Club Sciacca, con l'auspicio quindi che i prossimi incontri siano più alla portata delle ragazze s'accensi. Ancora sport, esordio casalingo per la Icaro Basket Sciacca nel torneo di promozione. I padroni di casa hanno perso contro il Ribera ma hanno lanciato in campo diversi giovani, mentre si sono registrati i ritorni in rosa di giocatori che avevano indossato la maglia della Icaro anche nelle stagioni precedenti. Nel servizio spazio anche alle attività sportive della squadra comprensoriale dei Leoni Sicani. Vediamo. Esordio casalingo per la Icaro Basket Officina Ranere di Sciacca nel campionato di promozione. Presso l'impianto Sicilia Sport i ragazzi di Giovanni Monastero e Santo Ternetta sono stati superati per 40 all'86 dal basket di Ribera. Per i saccensi quindi si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella registrata nel primo turno ad Elice. Al di là del risultato la partita è stata utile per vedere all'opera tanti giovani che stanno crescendo bene e in ritorno in squadra di giocatori che avevano militato a Sciacca nelle stagioni precedenti. Questi marcatori per la Icaro Sciacca. Il migliore è stato Gibala Karam con 12 punti, poi Di Stefano con 10, a seguire un punto per Tellizzese, 7 per Playa, 6 per Comaianni, 2 per Lupino e per Ciaccio. Per gli ospiti invece, guidati dal coach Faraci, i migliori realizzatori sono stati Garamella con 19 punti, poi Marotta e Palmeri con 14, Sacni con 13 e Salpietra con 9. Tra le fila della Icaro Basket Sciacca si è rivisto l'atleta Giovanni Lupino dopo un'assenza di circa 7 anni. Durante la partita purtroppo si è registrato il brutto infortunio subito ad una gamba da Playa che è stato costretto a ricorrere alle cure dello staff medico del Giovanni Paolo II di Sciacca. E passiamo alla squadra comprensoriale dei leconi sicani. In attesa dell'inizio del nuovo campionato di hockey su carrozzina elettrica, i leoni sicani hanno esordito nel torneo di Power Charge Football. La squadra belicina è stata superata in trasferta per 4-1 dai Red Cobro Palermo, nel corso di un incontro che si è svolto al Palamandano. Come si ricorderà, i leoni sicani hanno iniziato l'avventura del calcio su carrozzina elettrica soltanto da una stagione. Questo, appena avviato, è il secondo anno. Non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, dice Mario Magaluso, dirigente della leoni sicani onlus. Questo risultato non deve assolutamente scoraggiare i ragazzi. In fondo, del campionato è appena cominciato e ci aspettano ancora tante altre partite. Il prossimo 4 dicembre i leoni sicani saranno impegnati in una seconda trasferta palermitana. Questa volta incontreranno sul campo le aquile di Palermo. Nel frattempo, già domani, riprenderanno gli allenamenti al Barbera Center di Santa Margherita di Belice. È davvero tutto. Noi ci fermiamo qui. Vi ringraziamo per la vostra attenzione. Come sempre, vi aspettiamo nelle prossime edizioni per gli aggiornamenti. Grazie ancora. Arrivederci.